Con te voglio soffrire, Signore, con te salire sulla croce. Ha sete di te il mio cuore, brucialo tutto d'amore. Sotto la croce si impara ad amare, è dolce la tua croce, Gesù. Tra sofferenze e incertezze sei tu l'unica speranza. Nel buio e la debolezza, tu sostieni la mia vita. Amo la tua croce, Signore, con te la porterò, Gesù. Tu, tu, solo unica mia speranza e mio amore. Solo tu, mia gioia non ti lascerò mai più. Mia gioia non ti lascerò mai più. Benvenuto fra Leonardo Civitavecchia, che ormai i nostri amici di Padre Pio TV conoscono. Diversi sono state le interviste, le tue testimonianze, il tuo racconto di essere frate, figlio di Francesco. E allo stesso tempo anche la testimonianza con il mondo che canta Maria. Più volte sei stato ospite delle nostre trasmissioni per portare nelle case di coloro che ci ascoltano attraverso la TV il messaggio del Vangelo. Ma allo stesso tempo anche il messaggio di Francesco. E lo fai anche attraverso un altro figlio illustre di Francesco, padre Pio da Pietrelcina, con cui oggi abbiamo voluto salutare i nostri telespettatori con questo tuo breve intervento. Sotto la croce si impara ad amare. Innanzitutto benvenuto, grazie per essere qui, fra Leonardo. Grazie come sempre, grazie a tutti gli amici che come sempre sono in collegamento per guardare, per spiare il volto di Padre Pio e la sua spiritualità e la sua grande ricchezza che ancora oggi continua a esercitare su ciascuno di noi. Beh, tornare qui con la chitarra finalmente in mano. È vero che abbiamo fatto in questi ultimi mesi qualche intervento, qualche intervista, però io sono due anni che sto fermo e lo voglio raccontare subito. L'ho raccontato in una tournée estiva che mi ha portato da Biella, pensate ad Agrigento, la Sicilia. 15 concerti che andrò a concludere, poi lo diciamo proprio a San Giovanni Rotondo, il 13 di ottobre, ma lo diremo dopo. Io sono stato due anni fermo, per grazia di Dio non sono stato realmente fermo perché ho nuovi progetti che vi dirò alla fine, delle chicche che il Signore mi ha voluto regalare in questi due anni per una malattia genetica, la otosclerosi. All'orecchio sinistro praticamente ero arrivato nell'arco di un lungo tempo da ragazzino a perdere 92% di audio. Questa malattia non mi ha scoraggiato, ha tentato di scoraggiarmi perché quando sono stato a Piacenza, che ringrazio ancora pubblicamente i medici, il dottor Lauda, per l'ospitalità, per l'accoglienza, per l'umanità, ma anche per la professionalità, loro mi hanno detto non possiamo operarti se prima non scendi di chili. Per cui mi sono voluto mettere con santa pazienza e qui, ecco, dicevo, è sembrato un po' un ostacolo. Invece no, grazie a dottor Panuzio di Foggia sono riuscito a perdere 40 chili e soltanto il 4 di aprile di quest'anno, tre giorni dopo la Pasqua, io sono stato operato di otosclerosi e un mese e mezzo dopo i medici hanno parlato di miracolo. Si arriva solitamente a recuperare l'80%, invece loro mi hanno detto hai recuperato il 100%. Questo è un miracolo che certamente è avvallato dai medici, per cui io racconto che non avevo bisogno del miracolo, nel senso che io canto da 16 anni la mia gratitudine al Signore con quel mio grazie Signore. Sono 32 anni, 30 anni e più che ho scritto questa canzone, grazie Signore, per cui al di là del miracolo il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia, il Signore è la mia forza nei momenti di gioia e soprattutto anche in momenti di difficoltà. Per cui questa malattia non mi ha fermato, mi sono soltanto messo ai box, perché è anche giusto e bello mettersi ai box e con l'aiuto di Maria, di Gesù, oggi sono qui a raccontarvi le meraviglie del Signore. Fra Leonardo, lo ricordiamo subito, il sabato 13 ottobre alle 17 sarai alla Domus Francesca Napprodo per questo concerto, questa testimonianza che farai qui a San Giovanni Rotondo. Abbiamo cominciato quest'oggi con questa canzone che si chiama proprio così, a questo titolo, sotto la croce si impara ad amare. Un po' più volte anche tu, parlando anche durante le tue omelie, anche attraverso le tue confessioni, il tuo apostolato, il tuo servizio, ora sei nella parrocchia... Di Bitonto, come umile, semplice frate, mettendo a disposizione il mio servizio di frate, di presbitero e poi grazie a Dio per riprendere quel dono che il Signore mi ha fatto attraverso la musica. Ecco, spesso ti sei trovato tu a dover consolare, ma allo stesso tempo a raddrizzare la via di tanti che a volte pensano di essere soli ad affrontare tutto questo. Poi alla fine ti sei ritrovato anche tu in questa situazione. Che cosa puoi dire, ma soprattutto anche a coloro che ci stanno seguendo, che forse vivono anche la stessa situazione o comunque si trovano davanti ad una situazione in cui, ecco, mi sento solo. Francesco, tu sai che io sono graziato, fortunato, più volte il Signore mi ha voluto bene e mi ha guarito e mi ha graziato. Ha usato molta misericordia nei miei riguardi. Però io ho avuto un dono, una grazia, cioè quello di essere più volte inviato nei luoghi della sofferenza. Basta pensare i cinque anni a Foggia al Don Uva, all'ex psichiatrico, e in modo particolare gli ultimi quattro anni del mio servizio, dal 2012 al 2016, alla direzione di una casa per anziani a Foggia, la casa per anziani di Sant'Antonio. Ho incontrato in questi luoghi del dono e della sofferenza il volto di Gesù. E' questo che mi ha aiutato poi di fronte alla mia malattia, alla mia sofferenza, anche alla mia chiusura, anche a livello psicologico. Non nascondo che è stato un grande colpo quello di essere un po', quello di mettermi ai box, quello di pazientare, quello di impegnarmi, eccetera, per ottenere questo risultato. Però, devo essere sincero, io ho imparato molto da San Francesco e Padre Pio. Francesco d'Assisi non è soltanto il santo del presepe, è il santo che sulla Verna, come Padre Pio, ha incontrato davvero la croce, ha incontrato la sofferenza, il dolore, le stigmate, sono proprio il racconto della impressione di San Francesco e di Padre Pio all'immagine vera, non alla favoletta di Gesù Cristo, quelle che a volte vogliono tentare di raccontarci. Qui c'è proprio un incontro con la sofferenza, che o la si accoglie con la fede o saremo schiacciati, se non saremo capaci di accogliere la croce e la sofferenza nella nostra vita. Per cui, io che sono, non oserei dire figlio spirituale di Padre Pio, perché sono giovane, però ho conosciuto frati come Padre Paolo, Padre Giambattista, che sono stato a contatto diretto con Padre Pio, io ho respirato tutta questa spiritualità di Padre Pio e loro mi hanno insegnato che sotto la croce, perché questa è stata l'esperienza dei frati di un certo calibro, raccontano che Padre Pio ha imparato a stare sotto la croce, come la Madonna, a non scappare dalla croce, come Francesco d'Assisi. Per cui sotto la croce si impara ad amare, noi siamo incapaci di perdono, di amore, di misericordia, soltanto abbracciandoci alla croce avremo quello sguardo nuovo. Nel ritornello, tutto il canto che ho, la strofa, le due strofe del ritornello, il ritornello dice, sono tutte parole di Padre Pio, no? Tu, solo unica mia speranza e mio amore. Se tu mi prendi il ritornello. Tu, solo unica mia speranza e mio amore. Solo tu, mia gioia, non ti lascerò mai più. Concludendo questa tua sua serie di concerti qui a San Giovanni Rotondo, lo ricordiamo, giorno 13 di ottobre alle 17, alla Domus Francescana a Prodo, dove lì anche racconterai la tua esperienza, come abbiamo cominciato la nostra intervista proprio da questa tua esperienza di sofferenza, ma che poi ti ha riportato a donare, ecco, in un certo senso, perché poi, fra Leonardo, è anche bello poter condividere quello che di positivo ti accade, perché soprattutto a coloro che versano in queste condizioni e vedono buio dinanzi, ecco, una mano intesa, soprattutto da coloro che hanno passato questo... Tu non sai quante chiamate, quante telefonate, quante visite a Bitonto che sto avendo, tante persone che hanno sentito sul mio canale YouTube, le mie interviste, i miei concerti, hanno sentito raccontare questo miracolo che il Signore mi ha fatto attraverso riacquistare il 100% l'udito. Molte persone hanno incontrato, ahimè, dei medici non all'altezza, ci sono, grazie a Dio, molti medici all'altezza, e molti mi stanno chiedendo, ecco, attraverso questa mia testimonianza di poter tentare, perché questo, l'orecchio è una parte abbastanza delicata, un po' sconosciuta, ahimè. Ecco, per te che sei anche cantautore. Beh, io che canto, quindi molti mi stanno chiedendo, io credo che non dobbiamo avere paura di raccontare la nostra malattia, la nostra sofferenza, soprattutto poi per poter aiutare altre persone a, perché no, a recuperare e a spendersi per l'amore e per il bene, questo è importante, questo l'ho sperimentato ultimamente. Tu ci hai raccontato anche che tra le tante cose che tu fai, tu sei frate minore, sei impegnato anche in parrocchia e ti piace cantare, lo fai da tantissimi anni, ormai da 30. 30. 30 anni, poi ci farei ascoltare anche la tua prima canzone. Una delle prime. Una delle prime. Ave Stella del Mar, ci sarebbe, grazie signore, che lanceremo nello spot. Però riusciamo in un minuto, lo so che è pochissimo il tempo, mi racconti un po' come è nata la tua vocazione, perché anche la tua vocazione è legata, prima l'hai accennato, ma è legata a Padre Pio in un certo senso. Assolutamente, io ho avuto l'esperienza con i frati Cappuccini a Sansevero, la mia parrocchia, dove, ripeto, questi santi frati a contatto con Padre Pio mi hanno, pur non conoscendo, perché io sono del 72, quindi Padre Pio è morto nel 68, pur non conoscendo Padre Pio, però è come se io lo incontravo ogni giorno attraverso la spiritualità, l'esempio e la testimonianza di questi confratelli. Ne ho citati due, ma ne potrei citare tantissimi altri, Padre Paolo, Padre Gian Battista, Padre Antonio, D'Addario, Padre Luca Lupo che è ancora vivo, ma tantissimi altri frati, ma ancora più anziani che non ci sono più. È lì che ho sentito il sapore, il desiderio della vita francescana. Certamente gli anni di Pietrecina, le scuole medie, sono un piccolo gradino, sono un piccolo tentativo, non è che si nasce frate, attenzione, anche se il desiderio, il seme, io racconto il seme della vocazione come anche il seme della musica, sono dei semi che se noi gli mettiamo l'acqua ogni giorno, questo seme cresce, se poi lo soffochiamo, come soffochiamo la parola di Dio, rischiamo di distruggere ogni progetto, ma questo a prescindere dalla vocazione religiosa, dalla vocazione alla vita, ma su tutti i campi, in tutti i progetti. Se noi ci mettiamo la passione, ci mettiamo l'amore, quell'acqua soprattutto della grazia, riusciremo a far crescere questo desiderio e questo seme che Dio mette nel cuore. E allora ho avvertito certamente, prima di Francesco D'Assisi, ho avvertito forte la presenza di Padre Pio, questo saio, questo saio marrone che mi ha sempre accompagnato nel cammino della vita e questa santità indiscutibile. Io prendo poco da Padre Pio, ma se posso prendere un po', adesso un po' meno, un pochettino burbero, come si racconta in alcuni eventi di Padre Pio, ma poi Padre Pio era anche dolcissimo, soprattutto amorevole, al momento opportuno, però poi dopo in altri momenti era dolcissimo, era amabilissimo e questo mi ha colpito molto e mi ha accompagnato. Certamente poi il cammino tra i frati minori, il noviziato di Fonte Colombo nel 1990, gli studi di teologia. Io parlo poi di un'altra vocazione, o meglio, quasi in tantem, sullo stesso binario il Signore mi ha dato il dono della musica, perché tutto quello che il Signore mi aveva regalato non doveva rimanere chiuso, ma doveva essere annunciato. Io questo, se posso dirlo con un pizzico di vanto, l'ho fatto. Nonostante tanti che non credevano a questo dono, a questo carisma, beh, ahimè, sono passati trent'anni e io sono ancora qui. Grazie a Dio vivo e vegeto. Fra Leonardo, ci hai raccontato che in questi due anni, tra la sofferenza, la malattia, insomma, comunque tu avevi le tue canzoni, i tuoi progetti e tra l'altro io so già che sei già pronto, sei già proiettato verso il Natale. Eh, Francesco, tu sai molte cose, ma io lo voglio dire per la prima volta, visto che stiamo ancora lontano dal Natale. Beh, manca pochi, potremmo dire ormai. Beh, no, no, sono tre mesi, però ti posso dire una cosa. Io da giugno, per me è già Natale, perché, voglio dirlo, ho un grande progetto, un sogno che diventa realtà, non è cantare le mie canzoni, ma cantare le canzoni di Natale, dal Venite Fedele, Astro del Cielo. E tra l'altro l'anno scorso, ricordiamo, abbiamo mandato in onda anche un concerto. Sì, mi hanno chiesto, ecco, questa è proprio la conferma, mi hanno chiesto più volte in questi lunghi anni di cantare in Natale, ma per motivi economici io non l'ho mai potuto fare. Questa volta invece, grazie alla mia malattia, grazie al mio essere fermo, ho scelto dieci brani, dal Tuscè dalle Stelle al Venite Fedele, Astro del Cielo, le Campane di Natale, gli Angeli delle Campagne. Insomma, ho fatto una raccolta di dieci brani, con due brani anche in inglese, per cercare di dare un tocco internazionale. Il prodotto uscirà il giorno del mio compleanno. Questo è la prima volta che lo annuncio, il primo dicembre del 2018 nella mia chiesa dove vivo, quindi per la prima mondiale a Bitonto, il primo dicembre nella chiesa di San Leone, presenterò questo disco. Due cose, devo dire, importantissime. Io non ho mai avuto sponsor, non ho mai avuto etichette discografiche e sono ancora qui. Però ho ritrovato a Bari, andando da un anno a Bari, ho ritrovato un grande amico, Vincenzo Di Vella, che conosciamo tutti, e che ha deciso di sponsorizzarmi per questo progetto che non è, infatti il disco sarà messo a pochi euro, perché il prodotto, la produzione è già della Di Vella, quindi Vincenzo Di Vella già ha pagato tutto quanto il prodotto. Però lui ha sposato questo mio progetto e me l'ha potuto far realizzare. Io di questo voglio ringraziare pubblicamente. Poi gli arrangiamenti non sono presi dagli altri e cantati, sono tutti arrangiamenti nuovi, freschi, con delle intuizioni molto belle di un amico del Gargano, di San Marco Illamis, che è Angelo Gualano, che molti di noi conosciamo molto bene, un grande maestro, un grande esperto della musica anche religiosa, della musica cristiana, per cui con i cori gospel di Aurelio Pitino e gli stessi giovani e i bambini della scuola di Angelo Gualano abbiamo arricchito poi questo disco. Ve lo posso assicurare è di una bellezza unica, quindi per cui anche dall'immagine potete vedere. A tal proposito ho voluto riprendere un'opera di Piero Casentini, dell'artista romano, che rappresenta proprio Francesco d'Assisi a Greccio, il primo presepe realizzato proprio da San Francesco. Quindi quel tocco francescano è fondamentale. E allora, dal Natale riprendiamo quanto volevi raccontarci per il prossimo 13 ottobre alle 17, la Domus Francescana a Prodo, dove ti racconterai in questi tuoi concerti testimonianza, insomma dove tu attraverso la musica vuoi comunque lanciare un messaggio, un messaggio che era il messaggio di Francesco, che è il messaggio di Francesco, allo stesso tempo vuoi raccontarti anche attraverso delle parole di Padre Pio, attraverso una canzone molto bella che hai realizzato, che più volte abbiamo anche ascoltato nei nostri studi, sulla via del Calvario. Ecco, come sarà impostata questa serata, questo pomeriggio? Io ho fatto questa tournée estiva di 15 concerti, grazie a Dio ho ripreso al meglio, Giro Vaganto per tutta l'Italia e guarda caso, dicevo, concludo proprio qui a San Giovanni Rotondo, alla Domus Francescana a Prodo di San Giovanni Rotondo il 13 di ottobre ed è bello concludere qui. È tutto un caso perché verrebbero l'ex provinciale Padre Giuseppe Tomiri con un gruppo di amici dall'estero, svizzeri, verrebbero qui alla Prodo e abbiamo voluto inserire questo concerto per cui sarà allargato a tutti. Che cosa mi sono raccontato in questi concerti, questi 15 concerti? Beh, ho portato il mio ultimo disco del 2015 che si intitola E' te che cerco signore, dove nell'immagine c'è proprio molto bello quel volto del crocifisso di Sant'Amiano. Quindi è il racconto di quell'incontro che ha avuto Francesco d'Assisi, di quello sguardo misericordioso di quegli occhi di Sant'Amiano, del crocifisso di Sant'Amiano e che il Signore attraverso quegli occhi ha posato anche su di me e può posare su ciascuno di noi se noi apriamo il nostro cuore. E te che cerco signore è il racconto di una ricerca che non finisce mai. E anche quando qualche volta io dico mi dimentico o ci dimentichiamo di cercare il Signore, io annuncio e canto che Dio non ha mai smesso di cercare me. E allora ci salutiamo Fra Leonardo, lo facciamo con la tua musica insieme per cantare La Speranza, questo concerto di musica cristiana, sabato 13 ottobre alle ore 17 alla Domus Francescana a Prodo con Fra Leonardo Civitavecchia e con la sua testimonianza di gratitudine e con le tue bellissime parole attraverso la musica. Grazie Fra Leonardo. Io vi aspetto il 13 ottobre alla Prodo San Giovanni Rotondo e concludo con Ave Stella del Mare, quell'antico inno che la Chiesa ha sempre cantato a Maria. Ave Stella del Mare, Madre gloriosa di Dio, Vergine sempre madre, porta felice del cielo.